Ciao ragazzi, oggi video di presentazione della nuovissima linea di Neve Cosmetics Art Circus La linea Art Circus sarà in vendita a partire da domani, 14 ottobre, sul loro sito www.nevecosmetics.it La collezione comprende due blush, quattro ombretti minerali in polvere libera e due pastello labbra, due baci Io ho ricevuto alcuni di questi prodotti e oggi vi voglio fare gli swatch, così in anteprima per poterli vedere e ovviamente farvi anche un'idea se eventualmente vogliate acquistare qualcosa Insieme ai prodotti e all'anteprima mi hanno inviato anche questo temperamatite che è davvero utilissimo, come potete vedere ha due incavi Da un lato per i matitoni, perfetto per le due baci e dall'altro per le matite più sottili Poi c'è il polish temperamatite, non ricordo se è di qua Eccolo qui Si può pulire perfettamente e igienizzare ogni volta che lo utilizziamo Questo già lo trovate in vendita sul loro sito, quindi se volete acquistarlo già è online Partiamo subito con le due baci, parliamo di questa qui Storyteller, questa qui, questa due baci è bellissima Ha un colore stupendo, ve lo faccio vedere Carico anche di glitterini al suo interno E' un prugna amaranto davvero bello Questa è la matita per contornare E questa è proprio la punta più larga Come potete vedere io già l'ho utilizzata E poi c'è Applausi che è quella che indosso io Questo rosa pastello Pescato Anch'esso carico di brillantini Devo dire che Pensavo che mi piacesse di più questa Ma quando ho indossato Applausi Devo dire che ho cambiato assolutamente idea Questo è un colore perfetto per l'inverno Questo è molto più primaverile Più per le giornate di sole Infatti ho approfittato oggi C'è una giornata fantastica di sole Per indossarlo insieme a uno smokey eyes Continuiamo invece con gli ombretti Me ne sono stati inviati tre E sono Juggle Contortion E Ticket Partiamo subito con Ticket Che è un ombretto favoloso Carico di glitter Per oro Cadio 1 Non sto attenta Guardate che meraviglia Adesso ve lo mostro Come potete notare Ha Questi cangianze Pastello Salmone Davvero stupendo Credo che questo sia il mio ombretto Preferito di questa linea Assolutamente da fissare Con un primer O comunque con una base Altrimenti svolazzerà ovunque È un oro caldo Quindi perfetto sia per le more Ma anche per le bionde Devo dire Continuiamo con Contortion Quello era Ticket Contortion E Questo grigio Stupendo anch'esso Anche lui Delle cangianze Più verso Verso il rosa Malva Davvero perfetto Secondo me anche per gli smokey eyes E per concludere Già gold Questo Questo colore è fantastico E' davvero bellissimo E' davvero bellissimo E' un viola Malva Con glitterini Argento Davvero fantastici Questi ombretti Poi sono tutti molto Molto Luminosi Proprio In perfetto tema Circo Come vi ho detto Questa linea uscirà Il 14 ottobre Quindi manca un giorno Io ve l'ho voluta presentare Così Se avete dei dubbi Su cosa prendere Sapete già Magari Più Dove orientarvi Io ringrazio sempre L'azienda Per credere in me Spero Di non deluderla mai E spero Neanche Di deludere voi Vi mando Un grossissimo Bacio E spero Che i miei swatch Possano servire oggi Ciao